Ciao amiche, eccoci giunti alla seconda parte del top lavanda. Avevamo nella prima parte realizzato i quadrati di questo decoro. Adesso dobbiamo unirli e occuparci della parte sul retro, con questo bellissimo punto elastico. Ciò che dovremo fare adesso intanto è unire le mattonelle. Chiaramente io lavorerò con un campione soltanto di due mattonelle, altrimenti diventerebbe lunghissimo e come rifarlo nuovamente il mio top. Ma l'idea renderà benissimo. Allora, abbiamo lasciato naturalmente il filo lungo, prima di tagliarlo, della nostra mattonella. Ci procureremo l'ago della lana, inseriamo il filo e adesso metto un attimo da parte il nostro bellissimo top e vi mostro come unire le nostre mattonelle. Allora, chiaramente se sono tutte concatenate e dovranno essere cuscite l'una all'altra, posizionerò la mattonella in modo che dalla stessa parte avrò chiaramente il filo. Che poi questo si aggancerà all'altra mattonella, eccetera, eccetera. Quindi, posizionate in questa maniera le mattonelle, io inizio ad unirle. Partirò naturalmente dal vertice dell'angolo, chiaramente. Così. E proseguirò punto per punto. Non saltate neanche un punto. Vedete come procedo? Da dentro, da sotto, verso fuori. Aspettate, vi avvicino un attimo la telecamera, così vi mostro meglio. Come procedo io. Quindi. Vedete? Passo all'altra che ancora non è stata visitata dal lago e dal filo. Vedete come i due lembi si uniscono? Assolutamente in modo, formando una superficie piana. Non ci sono scalini. ... Grazie. Grazie. Scusate se ogni tanto metto la mano davanti. Ciò che conta è che voi seguiate passo passo e comprendiate nei vari passaggi come si lavora, anche per accostare due mattonelle. Non sono io, è l'obiettivo che mette a fuoco in maniera automatica. Procedo in maniera più spedita adesso. E per ultimo il nostro angolino. Da unire esattamente con l'altro. Così. Facciamo un piccolo nodo per assicurarci la chiusura. Ecco qui. A questo punto noi abbiamo terminato la nostra cucitura. Naturalmente si creeranno questi piccoli dislivelli. Ma noi rimediamo immediatamente. Quindi voi le vostre 6 mattonelle, 5, dipende poi le vostre misure quali sono. Abbiamo detto nell'altra parte, ho spiegato il perché del numero delle mattonelle. Quindi non voglio ripetermi. Allora, una volta che abbiamo noi unito, accostato tutte le nostre mattonelle, una volta che le abbiamo accostate tutte, una di seguito all'altra, come ho fatto nel top, come potete vedere. Qui, dopo averle accostate. Adesso inizia il vero lavoro che comincerà a far prendere forma, la forma e la misura del nostro torace. Più che torace, della zona seno. Quindi queste mattonelle andranno posizionate esattamente sopra il nostro seno. Perché è lì che saremo fasciate ed è lì che il nostro top rimarrà, scusatemi, rimarrà, resterà ben fermo. Ed, scusatemi, mi si era storta la telecamera, ben fermo e appoggiato sopra il nostro seno. Allora, cosa dobbiamo fare per proseguire? Dobbiamo prendere il nostro filo elastico, questo blu, e dobbiamo agganciarci all'angolino della nostra mattonella, prendere il filo e fare intanto una prima catenella, così. Dopodiché, da questo punto, noi dobbiamo fare un certo numero di catenelle fino a coprire la nostra schiena, quindi da sotto l'ascella dove parte la mattonella, dobbiamo procedere con un certo numero di catenelle che costituiscono la misura della nostra schiena, fino ad agganciare la catenella all'ultima mattonella, all'ultimo quadratino. Mi faccio anche un disegno. Allora, amiche, ho fatto uno schizzo. Vi volevo mostrare che, dietro le mattonelle, noi dobbiamo agganciare l'uncinetto, sempre con lo stesso filo elastico, dello stesso colore della cornice della mattonella, quindi il blu, e fare un certo numero di catenelle fino a coprire la distanza dietro la schiena e poi agganciarla all'altra mattonella, esattamente in questa maniera. Ho fatto la sagoma, appunto, dietro di una figura femminile di schiena, dove vedete che sotto l'ascella, in corrispondenza del braccio che si piega, che va a coprire, appunto, la prima e l'ultima mattonella, noi dobbiamo fare una catenella lunga, quanto è lunga, appunto, la nostra schiena. Deve essere molto aderente, non proprio strettissima, però deve essere aderente, ok? Quindi, dobbiamo fare questa catenella lunga che copre questa distanza. Naturalmente, la indosseremo, ci facciamo aiutare come prima volta, dopodiché non abbiamo più bisogno, soltanto poi per allacciare, per prendere, appunto, con un gancetto la misura della bretella, ma quella è un'altra parte, un'altra questione. Allora, dobbiamo, quindi, fare un certo numero di catenelle che coprono questa distanza. Facciamo finta che queste sono tutte le nostre mattonelle, per cui, dopo aver agganciato il filo nell'angolo della prima mattonella, dobbiamo procedere con un certo numero di catenelle. Facciamo finta che questo è il numero di catenelle che mi serve a coprire, appunto, tutta la mia schiena. Ad un certo punto, sempre assicurandoci che la catenella sia dritta, chiaramente dobbiamo andare, poi vi spiego il seguito. Allora, dobbiamo andare a cercare l'altro angolino. Prendiamo, prendiamo il filo, quindi come vedete il filo sta sempre in alto, prima di agganciare, mai al di sotto dell'uncinetto, ma sopra. Quindi inseriamo l'uncinetto nell'angolino, Prendiamo, prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassissima, in questa maniera. Ci siamo? Adesso facciamo una catenella, proprio perché dobbiamo fare noi un lavoro dal dritto. Ci siamo? Dobbiamo fare un lavoro dal dritto, quindi noi facciamo una catenella, così. E dobbiamo fare tutto un giro di maglie basse e mentre lo facciamo andiamo noi a nascondere quest'ultima codina tagliata più corta, chiaramente, dell'ultima mattonella. Dunque, cominciamo con la prima maglia bassa, nascondendo questa codina fastidiosissima. Allora, scusate. Va bene, la faccio alla seconda maglia bassa, la prima è un pochino più complicata. Allora, e cominciamo a fare tutto un giro di maglie basse. Oh, ci sono riuscita. Così, ripercorrendo proprio questo filo, questa catenella realizzata col filo elastico. Anzi, no, perdonatemi. Perdonatemi. Un attimo che avevo un pochino dimenticato quello che avevo fatto. Vediamo. No, no, è corretto. È corretto. Possiamo procedere. Possiamo procedere. Ok. Quindi, ripercorriamo tutta la nostra catenella con questo punto, con questo punto basso. Così. Ci vediamo poi alla fine di questa catenella. Quindi, ripercorsa tutta la nostra catenella a maglia bassa, dobbiamo proseguire il nostro giro di maglie basse, anche per creare un'uniformità a queste mattonelle unite, che presentano magari questo scatino. Allora, proseguiamo. Prendo un po' di filo. Quindi, ripercorriamo maglia per maglia tutto a punto basso. Giunti nell'angolino, che è unito a questo, deve formare un solo punto, prendiamo il filo, un po' come si fa con le diminuzioni. Quindi, inserisco l'uncinetto nell'angolo, prendo il filo, inserisco nell'altro angolo, prendo il filo e chiudo, in un unico punto. Così abbiamo già allineato quello che poteva creare uno scalino. E proseguiamo con le nostre maglie. Così. Vedete? Chiaramente lo farete poi con tutti i quadrati che incontrerete dalla unione dei vari quadrati. Io ne ho fatti due come campioncino, quindi si è presentata soltanto un attimo, un momento di questa. Ok. Ci andiamo a ricongiungere, quindi, alla fase della prima maglia bassa e chiudiamo con una maglia bassissima. Diciamo che adesso abbiamo terminato, abbiamo terminato il giro. Ok, amici? Quindi, avendo terminato il giro, stavo pensando che potrei approfittarne e farmi una fascetta per i capelli. Quasi quasi la faccio più larga, così almeno ho un senso anche questo mio lavoro. Scusatemi. Giunti dunque al termine di questo giro di maglie basse che abbiamo completato, non ci rimane altro che tagliare il filo. Esatto. Non dobbiamo fare altro che tagliare il filo, esattamente. No, non tagliatelo ancora il filo, non tagliatelo, perché esattamente non me lo ricordavo, l'ho dovuto guardare. Io ho avviato un primo giro tutto di maglie alte, quindi capovolgiamo il nostro lavoro, facciamo passare il gomitolo. Facciamo passare, allora, il filo si presenta in questa maniera, ok? Il filo si presenta in questa maniera. Noi adesso dobbiamo fare un lavoro capovolgendo appunto il nostro lavoro e cominciando a lavorare avendo questo come base. Ok? Quindi non la maglia bassa che abbiamo finito di lavorare, ma quel che rimane di quella catenella, la parte inferiore della catenella. Qui ci dobbiamo agganciare, perché la parte superiore poi costituirà la scollatura, ma in questa parte, in questa seconda parte, noi dobbiamo occuparci del retro del nostro top. Quindi dobbiamo tenere conto di questa superficie e di questa base, quindi i laterali e la base. Come primo giro, ancora con il filo elastico, quindi non tagliatelo, ci dobbiamo portare con una sorta di bypass, con una maglia bassissima, dobbiamo portarci nella una, due, nella seconda maglia bassa laterale di questo quadratino, ok? Come primo giro di maglia alta dobbiamo lavorare chiaramente al rovescio, per cui noi metteremo il filo e inseriamo nella prima asolina al di sotto della prima maglia bassa, vedete, il nostro uncinetto, e cominciamo a lavorare tutto un giro di maglia alta. Così. Ricordatevi che è un filo elastico, per cui va lavorato non troppo tirante e neanche troppo morbido. Quel tirante che serve ad agevolare esatto la funzionalità di questo filo elastico. Ci vediamo alla fine del giro. Giunti alla fine di questo giro di maglie alte, ci troviamo di fronte, quindi l'altra mattonella, per cui dobbiamo contare noi una, due, alla seconda maglia laterale, agganciamo l'uncinetto, estremo il filo e chiudiamo con una maglia bassissima. A questo punto dobbiamo tagliare il filo. Il filo elastico abbiamo terminato di usarlo e non lo useremo più. Quindi questo è stato l'ultimo momento in cui avevamo bisogno di questo filo elastico. e lo togliamo definitivamente, ok? E lo chiudiamo. Così non dobbiamo più usarlo. Naturalmente prenderemo il nostro ago della lana e lo nasconderemo. Così da non trovarcelo più. Durante il lavoro. E lo nascondiamo fino a quando lo scompassiamo. Una volta tolto di mezzo quel filo rimasto che abbiamo nascosto, dobbiamo tornare finalmente al nostro filo lavanda. Prendiamo il nostro filo, prendiamo il nostro uncinetto, stavolta dal dritto, contiamo quindi una e due. Nella seconda maglia laterale agganceremo il nostro filo. Così. In questa maniera. Filo sull'uncinetto e stavolta cominceremo il nostro punto elastico. Quindi l'elastico vero e proprio l'abbiamo terminato e abbiamo lavorato tutto un giro di maglie alte. Adesso invece faremo, fino ad esaurimento della larghezza della mattonella, un punto elastico. Il punto elastico è una lavorazione a coste esterna ed interna, ora un'alternanza di maglia alta a costa esterna e maglia alta a costa interna, che ci darà questo effetto elastico, quasi a fisarmonica. Questo per intenderci. Allora, quindi, una volta agganciato il nuovo filo, cominciamo la nostra lavorazione della costa esterna della prima maglia alta, in questa maniera. Filo sull'uncinetto, seconda maglia alta a costa interna. Quindi facciamo passare noi davanti a questa maglia alta, l'uncinetto, portandoci nella parte interna. Estriamo il filo, lo facciamo passare e lavoriamo normalmente come si lavora una maglia alta. Vedete? A costa esterna e a costa interna. Continuiamo. Filo sull'uncinetto, andiamo a prendere la successiva maglia alta, stavolta passiamo dietro questa maglia alta, l'uncinetto, catturiamo il filo, vedete? Altra maglia alta a costa esterna. E adesso è la volta di quella interna. Tolgo un attimo questo lago. Filo sull'uncinetto, andiamo a cercare l'altra maglia alta ancora non lavorata. Vedete come ho passato l'uncinetto. Estraiamo il filo e lavoriamo una normalissima maglia alta. Così. Vedete l'alternanza? Maglia alta a costa esterna, maglia alta a costa interna. E così via. Di nuovo ve lo faccio rivedere. Filo sull'uncinetto. Passiamo dietro questa maglia alta. Prendiamo il filo. Vi faccio vedere come lo prendo, lo metto il filo, perché magari questo passaggio può essere scontato per alcuni. Quindi, filo sull'uncinetto. Cerchiamo la maglia alta ancora da lavorare. Questa volta è una maglia alta a costa esterna, quindi l'uncinetto verrà passato dietro. Il filo, chiaramente, che io avevo sul dito sempre, non l'ho lasciato mai. Devo agganciarlo con l'uncinetto. Così. E lavoro la mia maglia alta. Una e due. Vedete? Adesso, di nuovo, filo sull'uncinetto, devo fare una maglia alta a costa interna. attenzione a non confondervi con le altre maglie. Magari per ora è facile, perché abbiamo due colori diversi a contrasto. Quando poi abbiamo lo stesso colore, sarà ancora più facile, voglio dire, perché già, diciamo, il lavoro è avviato, quindi individuare quella esterna e quella interna è ancora più semplice. Allora, filo sull'uncinetto, stavolta ne dobbiamo fare una interna. E voilà. Esterna. Interna. E ci vediamo alla fine del giro. Giunti alla fine del giro, come al solito, non dobbiamo fare altro che cercare una e due, la seconda maglia di fianco, e agganciarci e chiudere con una maglia bassissima. Adesso, ripercorriamo a maglia bassissima, una e due, questo perimetro laterale. giriamo il lavoro, giriamo il lavoro, e mettiamo il filo sull'uncinetto, e vedete che dove c'è una maglia esterna, maglia alta esterna, noi lavoreremo una maglia alta esterna. Quindi, così. Dove c'è una maglia alta interna, noi dobbiamo lavorare così. esattamente come abbiamo fatto prima, soltanto che già le troviamo posizionate. Non le saltate. Lavorate con calma e con precisione. fate tutto il giro così, e ci vediamo al termine di questo giro. Ne lavoro ancora un'altra. E' quella interna. Vedete? ci vediamo alla fine del giro. Ecco, c'è l'ultima, l'ultima maglia, che era una costa interna. Chiudiamo, e anche qui, come al solito, cerchiamola, una e due, la seconda maglia, laterale, inseriamo l'uncinetto, e chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso, dobbiamo ripercorrere il laterale, con delle maglie bassissime, fino ad aggiungere alla seconda maglia. E qui, di nuovo, ricominciamo, girando il nostro lavoro, e ripetendo di nuovo il giro, con queste maglie, col punto elastico, a costa esterna, a costa interna, e così via. Ci vediamo alla fine. Guardate, sono giunta al penultimo giro. Cerco la seconda maglia, una e due, inserisco l'uncinetto, e chiudo con una maglia bassissima, per cui, se voi rispettate tutte le maglie, arriverete proprio al momento giusto, dove, conterò io, una maglia bassissima, e due l'angolino, ho fatto esattamente tutti i giri, che dovevo fare. Volto il lavoro, e lavorerò l'ultimo giro, di maglia, di punto elastico, e, dopodiché, ci vediamo alla fine del giro. Finito il nostro giro, cerchiamo l'angolino, che corrisponde alla seconda maglia laterale, prendiamo il filo, e chiudiamo con una maglia bassissima. Ed ecco che abbiamo terminato, esattamente quello che è il lavoro, di punto elastico sul retro. Da questo momento in poi, abbiamo così realizzato, quella che è la circonferenza del torace, e poi, proseguiremo nella parte terza. Lasciate un like, se vi è piaciuto questo tutorial, iscrivetevi, se ancora ovviamente non l'avete fatto, e ci vediamo poi nella parte terza. Ciao amici! Ciao amici!